Salve ragazzi, andiamo a parlare, andiamo, 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 di che cosa è il problema, mi vengo a fare visita che vuoi da me, mi danno i regali che vuoi da me pure, non sono stato io, è stato lui, spontanea volontà che è venuto da me, e proprio lo conosce a tutti e due, qual è il problema? Non è affatto vero, è affatto vero, tu puoi rispicinargli, è affatto vero. Ti dico di no perché ci ho parlato al telefono, quindi sapevi qual era il problema. Ma secondo te, ma c'è di cicazzate da di tante. Andiamo, andiamo. Cicazzate da di tante. Così chiariamo, eh? No io così chiariamo, così con te. No, io potrei, tu te, dove vai, dove vai, dai, 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 dai. Che regali ti ha portato? Il marzupio piccolino che ce l'ho e l'orologio, è basta, non ti ha portato più niente, è basta. Ti serviva l'orologio? L'orologio sì, tolgo questo e metto l'altro, però questo non lo tengo se... Non era più utile magari sapere quello che ti serviva e così ti portava a qualcosa che invece ti serviva. Ha fatto tutto lui, ha fatto una mappa, chiaro. E adesso nella stanza stavo, che erano gli amici, gli amici come tutti e due, e basta. Allora, oggi non so, stop, niente di più. Vedi, allora, se fossi un altro, quando tu dici gli amici tuoi come tutti e due, parlando degli estranei, io dovrei alzarmi e andarmene via. Capisci quello che voglio dire? Però io non lo faccio per un unico motivo, perché conosco i tuoi limiti. So che tu a certe cose non ci arrivi. No, tu non ci arrivi. No, senti a me. Ma se tu mi non mi dici, mamma, io scusco, posso fare? Scusa, mi dici, che lo sai benissimo. Quando mi prendevi in giro, lo prendevo. A quale è l'accusa? No, no, ti prendeva solo in giro. Mi ha preso, ma che lo prendo io? Non mi faccio, non mi faccio. Ma chi è, dopo, non ci sarà. Perché? Perché ti spiego. Allora. Perché mi spieghi? Lello alla corte degli youtuber, possiamo dire così. E questo mi fa pensare a due cose. Che cosa? La prima è che evidentemente dopo quattro anni sei ancora una persona che crea interesse. E quindi vuol dire che abbiamo costruito qualcosa che alla gente piace. Ad alcuni. E tu, ma più che ti vanno dalla maestra, più che ti vanno dalla te. No, ascolta. Altri invece sono stufi. Cioè a tanta gente, a tanta gente stai anche un po'. Perché sono sopra? A me come dici tu? Come me. Me le sciacquo. Come me le sciacquo. L'altra considerazione che faccio io è che evidentemente qualcuno di questi youtuber o aspiranti tali non abbiano dei contenuti propri. Perché se avessero dei contenuti propri avrebbero una loro linea e farebbero tipo, che ne so, i me contro te. Se quando ci voglio mettere te contro te? No, dico. E i da comunque pure. Lello, non schizzare. Stiamo facendo un ragionamento serio. Ti prego. Un poco di rispetto. Vabbè, vabbè. No, vabbè. Ti ho potuto più forti nella corpa. Calma, eh. Ok. Che non sono quello che viene a farti dire da una portata a fa. Non sono quello io. Non ho potuto a fare. Non sono, non sono, non sono quello io. Quindi, la seconda considerazione, dicevo, è che evidentemente mancano dei contenuti propri. Tanto da dover addirittura venire da Roma per poter fare un video con te. Anzi, anzi, più video in un'ora di registrazione in modo da recuperare quanto più ciccia possibile. E questo, è questo, no, più ciccia nel senso quale cash? Perché si tratta di un canale nascente, non monetizza sicuramente ancora per ora. Io a Roma non ci sono mai andata, non lo so come composta. Ascolta un attimo quello che voglio dire. Allora, io ho parlato con questo ragazzo, un ragazzo assolutamente intelligente, che ha fatto la cosa in buona fede, però forse, per certi versi, è persino stato peggio del dottor Bianchi. Perché il dottor Bianchi, Guascone, ha fatto la sua cosa, il professor dottor... Come si chiama il bambù? In questo caso, invece, in quel video che io ho visto e che ho mollato a un certo punto... Lui l'ha mandato a te! No, 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 me lo hanno fatto vedere. Dite delle cose, e dice delle cose, anche inavvertitamente, preoccupanti, gravi, capito? Molto gravi. Tipo? Non voglio ripeterle con te, cioè, molto gravi. Perché è come se ti istigassi a fare qualcosa che non va fatta. Ed questo non va bene in nessun modo. Anche perché, solo per farti rispondere grazie a un messaggio, ci abbiamo messo quattro anni. Quattro anni! Capito? Quattro anni, gentilmente. Tutti... Mio figlio di sei anni le chiama le parole gentili e le hanno insegnate all'asilo. Tu a me le scrivi nei messaggi da pochi mesi, hai cinquant'anni, e ci abbiamo messo quattro anni per farti capire. Non ripetere quello che dico. Vabbè, vabbè, non si va. Dunque, da questa persona ho appreso una cosa che è la conferma di quello che vado blaterando io da tempo. Che, purtroppo, purtroppo, si tratta di uno spot fatto all'improvviso per alimentare, da un lato, il proprio ego, dal lato, il proprio canale, che finisce lì. Perché? Perché una delle giustificazioni è stata, eh, ma tanto io l'ultima volta che sono venuto a Bari, quindi per dire, figuriamoci quando arriverò, è stato tre anni fa. Ed è proprio questo il male. Perché tu, spesso, anche per queste situazioni, confondi l'amicizia, la conoscenza, la realtà e la fantasia e i social. Li confondi. Anche per questa cosa qui. Perché tu, se reputi una persona che viene da Roma una volta, che ti strizza come un limone per un'ora, poi se ne va e forse torna fra tre anni. Ma è un picco, sono un manco, papà. Se tu consideri lui un amico, perché sono arrivato e mi dici, è un amico come voi due, vuol dire che tu proprio non hai la concezione di che cos'è l'amicizia. Non è questo il fatto, hai capito, Lello? Ma questa canandela ha già fatto il giochetto. No, perché dice delle cose abbastanza serie, cioè che di cui noi parliamo, ma parliamo a microfoni spenti, parliamo a telecamere spente e cerchiamo di farti capire certe cose. Non solo noi, anche chi ti segue all'interno della struttura, capisci? Quindi questo non è un gioco. Tu sei una persona molto estroversa, sei una persona a volte molto simpatica, dici delle cose che fanno sorridere, ma questo non è un gioco. Quindi io non vi sto dicendo che non dovete venire a intrattenere o a stare con Lello, ma vi dico anche di chiarire bene qual è il vostro rapporto con lui, perché altrimenti lui pensa che l'amicizia sia quella di venire da Roma dall'ultima volta tre anni fa, venire qui, spremere come un limone la mucca e poi andarsene. E chissà quando altro vedersi. Dimmi. Spremere come un limone il limone. Il limone, vabbè la mucca inteso. Vabbè, ha fatto controverso, capisci? Non sono breghiato. Non sono breghiato. Adiwa, bad barave. Così come, per esempio, il fatto di portare dei regali a Lello è molto utile, però visto che, tra l'altro, portare un orologio significa o averlo in più e quindi disparsene, oppure, non credo sia questo il caso, non aver seguito magari il fatto che Lello ha avuto un orologio e magari in questo momento aveva bisogno di qualcosa di diversa dall'orologio. Quindi non di fare la collezione degli orologi, ma probabilmente aveva bisogno di un'altra cosa. Quindi benvenga. Ma siccome noi siamo raggiungibilissimi, magari ce lo fate sapere. Non perché dobbiamo venirvi a controllare, ma perché vi possiamo dare dei suggerimenti. E vi possiamo dire, come abbiamo fatto con questo ragazzo simpaticissimo, intelligentissimo, che magari avrebbe potuto utilizzare una forma diversa rispetto a quella che ha usato. Anche perché nel linguaggio metaverbale, quell'idea di soddisfazione alla risposta di Lello, quindi di compiacenza rispetto a quello che si è avuto come risposta, è qualcosa che potrebbe far pensare male qualcuno. E noi sappiamo, avendoci parlato per un quarto d'ora al telefono, che non è questo il caso. Io non so più come altro dirlo e soprattutto non so più come farti capire che se tu avessi... Come vengli a mannare, so capire, come vengli a mannare. No, no, no. È solo che chi viene per fare quella cosa... Io non mi ho depredato avanti, so capire. Chi viene per fare queste cose, tu sai, sei libero di decidere se farle o non farle. Le fai, ma non ti devi aspettare da queste persone di annoverarle tra quelle che ti possono essere amiche e utili anche nei momenti in cui tutti quanti ti mandano a cagare. Anche perché ti dirò questa cosa qui, forse te ne dispiacerà, ma prima o poi, non è molto poi, non è subitissimo, ma non è molto poi. No, 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 no. Sto cercando in tutti i modi di mantenere questa promessa, quindi alla fine della promessa tu dovrai vivere la tua vita come chiunque altro. Ah, chiaro. Ok? Quindi senza telecamera, senza... No, con il pupazzo, non è che il pupazzo. Non è, non è. No, facciamo dire come da te, ora vai e sconda me con il pupazzo. Capite quello? Io spero, spero che questo video possa farvi comprendere ciò che rappresenta la telecamera. È questo momento per Lello. È un momento che però, se voi venite ogni tre anni o venite solo a prenderlo per il culo e poi ve ne scappate, non è propedeutico. Anzi, in realtà può essere anche ostativo di tutta una serie di cose che il buon Lello sta apprendendo. Vabbè, io lo dico con grande tranquillità perché mi sono anche un po' trifolato gli zebedei. No, no, ti devo non girare perché... No, 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 trifolati, non girati, trifolati, trifolati. La cipolla o...? Dipende, io il fungo trifolato lo faccio con l'aglio. Aglio, pomodorino, cioè, non lo faccio, prezzemolo... Ma è saporito, allora vuoi dire? Ma non con la cipolla, non con la cipolla, trifolato si fa con l'aglio. No, gli zebedei no, quelli al naturale. No, 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 olio crudo sopra dopo. Allora, dimmi, caro Antonio, collega, dimmi, collega. Ho detto come i funghi, ho pensato tu ti riferissi ai funghi. Anche se stanno assumendo proprio le sembianze dei funghi, dei grossi porcini, perché ovviamente sta cominciando a diventare abbastanza fastidioso. Abbastanza, non ti preoccupare, si capisce, si intende che ti sei fatto trasportare dalla ilarità. Eh, posso farmi vedere? No, no, non devi far vedere niente adesso. Ehi, ehi, lasciala, stai fermo, stai fermo. Ma io voglio il pupato, voglio giocare con il pupato. Non che tutti da sé, scamano. E sto qui come pupato, come regia. Qual è il problema suo? Perché se voi faceste queste cose qui, ed altre che non possiamo elencare, guardate, sarei la persona più felice della terra a condividere con voi l'amicizia con l'Ello. Ve lo dico con grandissima schiettezza. Così il discorso, speriamo questa volta, sia un po' più chiaro. Un po' più chiaro. Ok? Ok. Tanto, qualunque cosa tu dici, qualunque mano tu stringi, vale esattamente quanto il 2 di coppa quando la briscole è a denaro. Ovvero, non vale nulla. No, valgo molto di più. Valgo molto di più. Vabbè, vabbè, vabbè. Per ora e solo per ora, fino al prossimo amico youtuber, è quasi tutto, caro Lello. Ma, allora, ma, ma, allora. Questa volta ti sei venuto per un borsello e un orologio. Ma, magari gli altri regali che hanno un gacchiano di più, altri regali. Però, chiamateci, così vi diciamo quello che davvero serve a Lello, in modo tale che non portate doppioni, 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 doppiù. Va bene così? Così come dicono a Bergamo, a one down. A one down. Un'assetta della maionese. No, qui non mi sembra un'assetta, ma. Lui, 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 non lo vedere così. Lui è veramente un grandissimo, una cattiva persona. Lui, questo qua, questo qua, allora, è una cattiva persona. Vabbè, mi sembra un pupazzo. L'ho capito che a te serve. Avete capito che a Lello serve il pupazzo? O non lo avete capito? Perché prende la gicchiera e fuori, le belle ragazze, come una bella. No, ma, tu, oh. Beh, 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 non inizia il compazzo. Ho capito? Hai capito, caro locally? Capito. Ciuglio. Capito. 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 Capito.